Il canadese Zanolin per distinguere i due, Kotleba e quello con meno capello. Parte subito con un 3-0 e l'opente la Possimons, poi con il 12 Brichey e con il 14 Schentzius, mentre Kukos, Kukos, Canestro, tanto per Divac, ancora Kukos, tiro da 3, mamma mia, è già il secondo che ha messo da 3 punti per questo, solamente entra l'altro. Illich, ancora Kukos al tiro da 3, mamma mia, che bella, Larry Brown ha avuto un'allenato, Sbaglia, Schentzius, Kukos, oh mamma, in contropiede, arresto, tiro da 3 punti. Sì, ma se la mette così. Ancora da 3, Kukos. Adesso li contiamo, sono 1, 2, 3, 4. Kukos, questo tira da 3, figuriamoci. Arriva a quota 22, Kukos. Tiro dalla grande distanza e hanno anche una precisione però imbediabile. Ancora Kukos. Mamma mia, il ragazzo, nascendo e ha avuto una grande fortuna. Fury, pinta l'entrata poi, non ha lo spazio. Smith, anzi Johnson da sotto, si vede spuggire il pallone dalle mani, troppe comunque l'ingenuità degli americani. Sbaglia, lo porterebbe nel primo angolino un po' tranquillo per fargli firmare un contratto di quelli fantastici. Kukos, ancora da 3. Per cercare di offrire un servizio preciso ai nostri ascoltatori. Ma il servizio preciso qui lo sta facendo. Le cose vanno come si vorrebbe, soprattutto perché i lunghi jugoslavi fanno buona guardia. Kukos. Basta, facciamo la finita qua. Ormai è... Come sai...